Come sarebbe abitare a Villa Monastero? A scoprirlo sarà il più fortunato tra i visitatori della celebre dimora di Varenna. Dopo un'estate da record in cui il numero dei ticket venduti è cresciuto in maniera esponenziale raggiungendo quota 150.389 dall'inizio dell'anno, la provincia di Lecco ha deciso di riservare una sorpresa al 160 millesimo visitatore. Quest'ultimo potrà trascorrere una romantica notte con un accompagnatore in una delle 12 camere della villa e svegliarsi con la vista lago più bella dell'Ario. Ma anche per chi non vincerà, la visita della villa non lascerà deluso nessuno. Tante le novità in partenza. Il 10 settembre si terrà un concerto di canti dai monasteri cistercensi. Sabato 24 si potrà accedere anche di sera fino alle 22 per vedere il volto della dimora, il chiaro di luna e ancora tante altre iniziative per l'autunno. I nostri sforzi sono premiati, gli ingressi sono triplicati rispetto al 2021 e raddoppiati rispetto al 2019, commentano la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hoffman e Fiorenza Albani, consigliere provinciale delegato a cultura e beni culturali. E continueremo a programmare interessanti iniziative per coloro che sceglieranno di trascorrere qualche ora nella perla del nostro territorio proseguono. In autunno partiranno i preannunciati interventi di riqualificazione e di restauro che dalla prossima primavera consentiranno ai visitatori di ammirare la villa in una veste completamente nuova.